Il conto corrente BBVA ti dà una remunerazione garantita a lungo termine. Iniziando con un tasso del 3,5% per sei mesi, che poi cambierà in linea con le condizioni di mercato. E visto che la vita già ti chiede tanto, noi non ti chiediamo niente. Né stipendio, né saldo minimo, né permanenza. Conto e carta BBVA a zero spese per sempre, con il 3,5% di remunerazione. Aprelo adesso su BBVA.it e ottieni anche il 3,5% di cashback.